ariete la luna oggi è di passaggio nel segno e si accompagna a marte e urano sollecitando fortemente le vostre emozioni ma anche le vostre intemperanze toro un leggero calo energetico potrebbe farvi apprezzare di più i piaceri del relax e della cura di voi stessi insieme alle faccende di cuore gemelli un buon cielo astrale vi sostiene nonostante qualche difficoltà di intesa in amore siete di nuovo in pista e ottimisti desiderosi di cambiamenti cancro bloccati in qualche strettoia di carattere lavorativo siete alla ricerca di soluzioni che tardano ad arrivare ed oggi anche la luna dissonante vi indispettisce leone l'opposizione del sole potrebbe abbassare il tono vitale causando incertezza anche nelle vostre convinzioni ma oggi tornate a brillare e vi ricaricate vergine si allentano le tensioni e potete lasciarvi andare a contrattazioni incontri e programmi molto sentiti in grado di soddisfare la vostra curiosità bilancia giornata un po disturbata dalla luna opposta che amplifica emotivamente qualche disagio che state affrontando sia fisico che di lavoro scorpione il momento è propizio per allacciare contatti importanti che riveleranno i vantaggi in seguito mentre si rafforza la volontà di raggiungere un obiettivo sagittario cambia l'assetto del quadro astrale e arrivano influenze positive che vi rimettono in corsa riattivando energie ed entusiasmo e portandovi conferme capricorno momento di intenso lavoro mentale affiancato da relazioni che vi assorbono profondamente che dovete affrontare con impegno e un po di fatica acquario giornata illuminata da ottimi influssi astrali che esaltano emozioni e vitalità vi inclinano a vivere con entusiasmo ogni aspetto della vita pesci si smorza l'intensità del vostro cielo ma ancora siete toccati da una bella energia mentale che sostiene progetti e vi rende convincenti buone stelle